Nonostante in città l'erogazione idrica almeno sulla carta sia a giorni alterni, al contrario di quanto avviene in altri comuni del Nisseno dove l'acqua viene distribuita a intervalli di 5 giorni, i problemi idrici sembrano comunque non avere fine. In diversi quartieri della città alcuni utenti denunciano disservizi notevoli, spesso causati da rotture, da turni di erogazione non rispettati o da scarsa pressione durante la distribuzione. E' quanto accade ad esempio ad Antonio Scalfa, titolare di una delle palestre più note in città, che da quando è iniziata l'estate fa i conti continuamente con i rubinetti a secco della sua attività, situazione che lo ha anche portato a chiudere lo scorso giugno e che continua tuttora. Anche stamattina cisterne vuote e rubinetti a secco e i clienti che vanno via senza allenarsi. E' un'estate intera che siamo senza acqua, cioè qua l'acqua è arrivata una volta ogni 25 giorni, addirittura adesso stiamo esagerando perché non arriva neanche quando siamo in zona erogazione in zona bassa di Caposoprano e neanche in erogazione in zona alta, cioè qua l'acqua non si vede mai. L'unica acqua che vedi è se chiami le autobotti con 140-150 euro l'acqua arriva, sempre rispettando la tempistica delle autobotti quando hanno disponibilità per portartela. Ma qui parliamo di un'attività, cioè qua ci sono anche altre attività, c'è una lavanderia, c'è un panificio, c'è un condominio, c'è gente che viene in palestra, che si allena e quando finiscono sciacquarsi, levarsi un attimino un po' i sudori, ma soprattutto i servizi igienici. Allora la cosa che più a me preme è far rabbia veramente che non ci sia un organo istituzionale che controllano la veridicità di quello che Caltacqua mette nero su bianco. Antonio più volte ha segnalato il disagio a Caltacqua senza però nessun esito. Si segnano la segnalazione, adesso la comunichiamo, ma non è vero, non è vero perché non interviene nessuno. E la cosa che più mi fa rabbia è che non c'è un organo locale o un politico regionale, provinciale, di controllare questa situazione. Perché qua è veramente allo sfascio tutto. Perché tu mi pubblici un calendario, mi dici che domani questa è la turnazione dell'acqua. Non è vero, assolutamente. O meglio, quando aprono l'acqua, se come dice il sindaco Terenziano, due litri li abbiamo presi da bubonia, tre litri li abbiamo presi dall'altra parte. Ma io qua non ho visto neanche 100 milligram di acqua. Stamattina intanto arriverà l'ennesima Autobot nell'attesa della bolletta di settembre che Antonio pensa di contestare. Non lo so se strapparle o direttamente, non accettarle completamente. Non è possibile perché arrivano le bollette dell'acqua, io devo pagare cosa? L'acqua che non ho? Io pago la bolletta se arriva l'acqua. Ma voi avete mai visto un paese che arrivano le bollette senza acqua?